Ci sei? Allora siamo buonasera con Natalia Buonasera Stanca, sudata dopo la lezione Sudata non significa stanca, no? Stanca, allora stacca, stacchiamo tutto Siamo a Mondo Fitness con Natalia Titova appena finita la lezione di danza Ciao, 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 benissimo, io benissimo loro spero di sia Tutti sfruttati Spero, spero, spero il scoop è questo, fare sudare Fa bene No, fa bene, fa bene perché ormai la danza poi specialmente al latino-americano proprio questo è il posto giusto Mondo Fitness la danza è un sport, lo sappiamo è un sport abbastanza faticoso perciò si suda, si impara a ballare e si diverte E' anche una filosofia la danza o è anche oltre uno sport? Oltre lo sport, giustamente è una filosofia, un stato di animo un pensiero Un'arte Un'arte, ma dico una cosa più importante forse è scoprire se stesso scoprire l'emozione che abbiamo dentro abbiamo tutti emozioni solo la vita normale, privata non spesso ti permette veramente di far uscire fuori invece è adrenalina pura o sulle montagne russe quando stai così o nella danza come hai trovato Mondo Fitness ti sei divertita la prima volta che vieni? Non credo No, non è prima volta è un po' mi è piaciuto quel bel casino perché alla fine non capivo da dove viene la mia musica c'è musica là musica qua musica qua qui si bala lì si suda lì fanno balla un mix è un mix è un mix è un'energia pura proprio un'adrenalina totale prossimi impegni? domani ballando con le stelle poi guardate questo bambini compagni le scuole di danza insegnamento e tutto il resto e benissimo allora grazie di tutto buona stagione perché mi dispiaciuto che non sei stato tra i miei eh la danza dovrei segnarmi pure io a scuola di tu insegni anche certo come no e allora devo segnarmi a scuola di danza ci sarò ok grazie ciao